Una volta si faceva la fine della messa a San Michele Arcangelo. Ecco, pensiamo anche a noi salernitani, ciascuno ha i suoi motivi per essere devoto agli angeli. La figura di San Matteo senza l'angelo nell'iconografia scomparirebbe? Non solo, ma se noi andiamo in cattedrale c'è l'iconografia dell'Arcangelo San Michele enorme. E' importante perché? Perché lì andavano i crociati prima di partire per la Terra Santa, appunto nella cappella di San Gregorio VII, lì venivano benedetti. Ricordiamo che i cavalieri cristiani sono strettamente collegati a San Giorgio e a San Michele, proprio perché devono combattere per la fede. Tra l'altro la cattedrale, prima di essere consacrata a San Matteo, era proprio la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Sì, sì, voglio dire, anche a Salerno Centro c'è appunto la chiesa di San Michele, ma poi anche a San Giorgio c'è il famoso dipinto di San Michele. Se noi guardiamo bene, il centro storico una volta era pieno di chiese di San Michele. C'erano ben tre chiese consacrate a San Michele, nell'antico centro storico di Salerno. C'è ovviamente...